Salve, sono Davy J e Faby J mi fa una sega Ci sono cose che non capisco, ci sono cose che non tornano Non tornano Salve a tutti ragazzi, a parte scherzi sono Davy J di ItforGaming e benvenuti a questo forse primo vero vlog, anche se sarei impramezzato come avete visto, da qualche breve stranzata tipo questa Un'altra cosa che io non capisco è perché tutte le sere arresto il sistema e la mattina dopo è ancora lì, che fine hanno fatto le forze pubbliche con plotto? In questo vlog o blog, non ho mai ben capito come si dice, vi parlerò di quelli che sono i progetti futuri del canale Infatti ci sono in ballo delle collaborazioni, una l'ho già fatta, nel caso non l'abbiate vista vi metto il link qua sotto E' stata fatta con NoLifer, ha un canale dove parla di film, soprattutto di B-movie, è veramente molto preparato e è curato molto bene, vi consiglio di andare a darci un'occhiata Un'altra cosa che invece volevo chiedervi è, vale la pena riniziare un'altra serie, nel senso che per i pochi iscritti che ho, le serie precedenti non sono andate a buon fine Perché dopo un po' stanca, o dopo un po' soprattutto per un gioco non giocato, giocarlo poco per fare i video è molto difficile Come dice una frase che gira su internet, una cosa molto difficile è giocare a un videogioco per 30 minuti E' veramente una cosa brutta e anche registrare tutta una mappazzata enorme e poi ridividerla è faticoso Quindi vi chiedo, vi piacerebbe volendo una serie? Se sì, su che cosa vi piacerebbe? Siete pochi ma mi seguite, quindi magari confido in una vostra risposta Se invece questo dovrebbe andare nell'etere, pazienza, vorrà dire che continuerò a calzeggiare per conto mio A proposito di calzeggio Perché quando si suda non si giuda? Cioè, suda giuda Inoltre, volevo farvi un'altra domanda Sempre per i pochi iscritti Ma comunque che ci siete, è vero che ci siete E fatemi vedere che ci siete E vi piacerebbe vedere anche qualche video per avere un po' più di continuità Anche non montato Nel senso, come ho detto nella presentazione del canale Se non l'avete vista, che cavolo, ve la lascio qui sotto Non mi piacciono particolarmente i video non montati Però mi rendo conto che per avere una coerenza E soprattutto riuscire a mettere video tutti i giorni Avere video anche non montati nel canale È una maniera per velocizzare molto Quindi comunque io terrei delle serie tipo FIFA 2015 Ultimate Team, Road to Division 1 E che cazzo è la madonna in colonna Tutto montato, tutto per bene come è Però magari fare altri video non montati Cioè, li prendo, li converto e li metto su YouTube Questo permetterebbe magari di inframezzarvi Uno montato, uno no E mentre voi li godete, li guardate Il bellissimo, perché sarà di una qualità eccellenza Video non montato Io monto l'altro video che mi ho montato Genialità pura In realtà non è una genialità pura Però, diciamo, siccome se vi siete iscritti a questo canale Immagino che vi piacciano anche il format di video che uso Non voglio spaparanzare tutto e buttare dentro cose Che magari vi fanno cagare Quindi, fatemi sapere Altre notizie non ce ne sono Altre cazzate le ho pensate Ma ve le risparmio Perché sinceramente Quelle che avete visto sono le migliori Poi si va calando e si va peggiorando E non è una bella cosa Ve lo garantisco Quindi nulla ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Soprattutto sia stato utile Lasciate i commenti qua sotto Fatemi un po' sapere quello che pensate Condividete magari il video Perché no E noi ci vediamo alla prossima puntata Il prossimo video dovrebbe essere FIFA 2011 Road to Vision 1 Episodio 4 Spero Se no ci sarà nel frio e mezzo Il video non montato E ci vediamo lì ragazzi Ciao a tutti Aia Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti